L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che la salute dell'individuo passa attraverso diversi aspetti della persona, non soltanto quindi la salute fisica, ma anche la salute mentale, ma anche il benessere sociale, ma anche la integrazione dell'individuo all'interno di un sistema che ne garantisca la salute, con la S maiuscola. E allora noi, Ordine dei Medici della provincia Batta, abbiamo inteso una collaborazione con tutte le figure che convergono sull'obiettivo della salvaguardia della salute dell'individuo, chiamandoli qui a cooperare insieme con noi medici in una sinergia che non è nuova, ma che ha bisogno di rinnovarsi anno dopo anno e di potenziarsi anno dopo anno per tutelare la salute e ribadisco, la salute ha bisogno non solo del medico, la salute ha bisogno dello psicologo, la salute ha bisogno del nutrizionista, la salute ha bisogno del riabilitatore, la salute ha bisogno di tutti, del contributo di tutti, perché solo così abbiamo una visione non del malato, ma della persona che deve vivere all'interno di un sistema organizzato a tutelare i suoi bisogni, a tutelare il suo benessere, a tutto tondo però. E allora se pensate che questo sia importante, noi lo pensiamo, l'11 ottobre presso Palazzo San Giorgio Cattrani, noi chiamiamo tutti gli operatori della salute per la seconda volta a collaborare con noi e soprattutto con voi e per voi per organizzare un convegno che ha questo obiettivo, la tutela della salute che parte dalla cura del corpo, che parte dalla nutrizione, che parte dall'attenzione all'individuo come un unicum che ha bisogno della integrazione di diverse professionalità e non una in meno per raggiungere un unico scopo, il benessere.